Ora andiamo a girare qua, qua, andiamo a girare qua. Allora, ce l'ho fatto io, ce l'ho fatto, non c'è la mano. Ok. Piero, le va andata, adesso, girandote la ora. Ora prendetelo la là. Andiamo avanti. Piero, te lo devi già passare, tu mi c'è già passare. Ora, si mette voi qua. Ragazzi, tu hai detto di me. Ti vieni, ti vieni, ti vieni. Ok? Ok? Componi. Ma la dieci. Una Grazie a tutti